La società spirituale è armonica. Entità A. Maestro Andrea attraverso Corrado Biancastelli. Domanda. C'è anche un altro modo di vedere la questione. Considerando che secondo il concetto del posto giusto al momento giusto possiamo ammettere che per ogni spirito ci sia un fascio di scelte possibili, quindi un fascio di punti giusti e di momenti giusti, potendo allora egli scegliere quella che più gli aggrada e le cui conseguenze, punto per punto, saranno matematicamente prevedibili. Entità A. Prevedibili ma anche tra loro diverse. Domanda. Però ognuna con un iter perfetto, già preordinato secondo la legge, secondo ciò che è stato detto prima. Entità A. Sì, ma voi non dovete meravigliarvi troppo di questo. Anche voi sulla terra avete qualcosa del genere. Per andare dalla vostra ad un'altra città avete molte strade. I vostri guai non avvengono a causa delle strade, ma a causa degli uomini che incontrate, cioè a causa di una sovrastruttura sociale, umana, per cui potete incontrare pericoli, correre dei rischi. Potete sbagliare strada. In ogni caso tutte le strade sono percorribili. Il discorso è che da noi le strade sono molte, come giustamente ricordavi, per giungere ad un certo obiettivo. E non ci sono cattivi incontri per la strada. La società spirituale è armonica. Naturalmente ci sono strade tortuose per cui lo spirito rischia certe conseguenze che sono tuttavia proporzionate a quel tipo di strada. Solo in questo senso lo spirito ha un rapporto diretto con l'esperienza.